Radio Radicale, siamo con il senatore Manfredi Potenti della Lega per parlare di codice della strada che è stato approvato dal Senato, un provvedimento importante che segna un cambio di passo, poi lei mi dirà se in meglio o in peggio per le regole della strada. Allora l'approvazione del provvedimento e quindi della riforma comporterà anche delle deleghe e dovrà ancora lavorarci il governo. Qual è lo spirito di questa riforma del codice? Allora anzitutto è una riforma che interviene dopo decenni di mancati adeguamenti delle norme codicistiche e interviene soprattutto sulla spinta di una esigenza, quella di porre un rimedio alle gravissime notizie che ci arrivano quotidianamente derivanti dai sinistri stradali che sempre più spesso e quasi esclusivamente sono riferibili a comportamenti e condotte di autisti e automobilisti indisciplinati che ad esempio una fra le maggiori ricorrenti cause riguarda l'utilizzo del telefonino o l'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti alla guida. Noi con questo codice intendiamo anche porre in sicurezza quegli utenti della strada ritenuti più vulnerabili che sono i ciclisti e anche coloro i quali negli ultimi anni hanno iniziato a fare uso di questi strumenti di trasporto, chiamiamolo di mobilità urbana elettrica che sono i monopattini. Sono state appunto molte le occasioni in cui abbiamo verificato che la causa di mortalità legata all'utilizzo di questi mezzi è di pesa dalla mancanza ad esempio del casco, di una luce, di un modo di circolare che è sostanzialmente avulso da quelle che sono le regole codicistiche abbiamo ritenuto indispensabile anche in questo caso introdurre dei limiti. Poi ci sono delle norme sulle quali ho lavorato sin dalla scorsa legislatura ad esempio che sono frutto di una maggiore sensibilità dei nostri cittadini. La norma antiabbandono degli animali su strada nasce proprio da questa volontà di frenare un altro comportamento assolutamente veramente disdicevole e non uso altri termini che vede ogni anno decine di migliaia di animali abbandonati guarda caso proprio in prossimità o sulle strade da degli autisti o addirittura sulle autostrade quindi qui introduciamo una nuova e più pesante sanzione ancorandola a quella dell'abbandono codice che è penalmente rilevante e la aggraviamo con la sospensione. C'è la norma sulla tutela degli animali? Sì chiaramente quello è un altro compendio normativo importante noi invece stiamo lavorando per quanto riguarda questa specifica soluzione per il codice della strada. Devo dire che questa e altre norme soprattutto di prevenzione come l'uso dell'alcool lock per i recidivi che si trovino a guidare un'autovettura dopo una sospensione alla patente abbiamo introdotto la marcatura della patente con una dicitura specifica e l'obbligo di avere anche nel nostro paese questo alcohol lock. Poi ascoltando anche quelle che sono state le interlocuzioni avute con molto dell'associazionismo da casistiche purtroppo reali come la morte di giovani che si sono trovati ad esempio in autostrada con automobilisti contro mano in stato di ebrezza abbiamo introdotto un'altra norma con l'articolo 22 alla sperimentazione di infrastrutture che impediscano di imboccare contro mano strade a doppia corsia e autostrade quindi strade a scorrimento veloce. Le norme sono molte riguardano ad esempio anche un'altra novità che è quella della sospensione breve della patente qui abbiamo introdotto un metodo diciamo di parametro di maggiore gravità nel caso in cui l'automobilista sia un recidivo rispetto a sanzioni della stessa specie e poi come a tutti noto abbiamo posto un freno alla dilagante purtroppo ecco moda di diciamo creare piste ciclabili dappertutto in mancanza di requisiti di sicurezza che possono essere ancor peggio pericolose di quelle magari che circolano di quei velocipedi che circolano invece sulla carreggiata stradale. Degno di nota ecco è il fatto che si sia voluto in qualche modo non tanto reprimere diciamo l'autonomia locale come la sinistra ha voluto accusare il ministro Salvini di aver fatto ma aver cercato di introdurre delle regole dei criteri generali di riferimento per standardizzare questo tipo di interventi compresa anche la realizzazione delle cosiddette zone a 30 km orari ed infine un altro passo molto avanti diciamo è quello di aver limitato gli autovelox nei casi in cui questi fossero stati utilizzati diciamo avete precisato meglio le norme sulla omologazione oppure avete proprio messo dei requisiti più stringenti? Ci sono dei requisiti più stringenti che devono in qualche modo corrispondere a una validazione che deve provenire appunto quella che diceva lei l'omologazione ministeriale in mancanza appunto di questo di questa verifica di standardizzazione diciamo quegli apparecchi saranno da considerare diciamo non non legittimi a non legittimati insomma a elevare sanzioni amministrative altre novità sono per esempio il controllo da remoto per la combinazione di sanzioni che vengano commesse in alcune diciamo aree particolari della nostra circolazione viaria come ad esempio in autostrada all'imbocco di gallerie o ecco manovre che possono essere veramente pericolose potranno essere in qualche modo rilevate da remoto da agenti accertatori che si trovassero in qualche modo a visionare filmati e registrazioni di riprese lungo le vie autostradali. Le opposizioni come l'hanno presa visto che hanno criticato alcuni aspetti punitivi? Devo dire in questo senso ci sono state delle accuse da parte delle opposizioni al governo insomma di voler essere in qualche modo troppo rigorosi e addirittura di non aver ascoltato insomma le associazioni anche diciamo di parenti di vittime della strada. Questo non è assolutamente vero perché l'opposizione dimentica che la parte finale di questo testo comprende una delega al governo che dovrà essere esercitata e che prevede la praticamente una quasi generale rivisitazione di tutto il corpo normativo codicistico che permetterà lì sì ecco di ottimizzare tutte quelle che sono state anche le audizioni che abbiamo fatto nell'ottava commissione sia alla camera sia al senato per cercare di acquisire ecco delle indicazioni sicuramente preziose e di cui sicuramente non abbiamo potuto tenere conto di tutto in questa sede perché appunto questo testo comprende una delega al governo su tutta una serie diciamo di punti molto variegati che riguarderanno io penso almeno i due terzi del testo del codice della strada. Bene io la ringrazio molto per averci un po' chiarito i termini della della riforma anche per la parte che riguarda la delega al governo ringrazio il senatore Manfredi Potenti con quale abbiamo parlato della riforma del codice della strada che è stata votata dal senato che sta per diventare le leggi almeno per una parte grazie grazie a voi